Un saluto a tutti gli amici di Facebook e YouTube, io sono Stefano Adami e quest'oggi vi porto a fare un back, back, backstage. Un dietro dietro le quinte è domenica, il salone nautico, il 56esimo salone nautico internazionale di Genova, incomincerà soltanto tra due giorni. Stanno cominciando a costruire gli stand, io e uno in particolare che vi voglio far vedere, è lo stand Navigo Italia, Lorenz Simrad e B&G, nel quale mi troverete dal 20 al 25. Ovviamente è ancora tutto in divenire, vedrete le fotografie su Facebook degli stand che crescono, piano piano. Non mancate dal 20 al 25 settembre qui a Genova per parlare insieme a me di marcature, ecoscandagli, strumenti di bordo e soprattutto di pesca. Ragazzi, vi aspetto!